E' la snob a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi finalmente sono qui per fare una challenge Ovvero quella di, non so come dirvi ma prova a mantenere il respiro per uno o più secondi Ok, raga questo secondo me sarà un video difficilissimo, però ci proverò lo stesso Allora, il respiro dovrebbe essere tipo per due o più di due secondi Quindi proviamo Iniziamo Fra, tre, due, uno Oddio, no raga, no Riprovo per la seconda volta, fra tre, due, uno Riprovo per la seconda volta No raga Oddio Riprovo per la terza volta Sperando di non stancarmi troppo Lo so sto facendo una pazzia, non sono normale L'ho già capito sin dall'inizio quando ho aperto questo canale E questo canale e niente, inizio ancora Fra tre, due, uno Adesso Vediamo mi sembra che questo sia durata per molto tempo e lo rifaccio però stando mezzo sdraiata quindi così aspettate un po un disastro fra tre due scusate per la ripresa uno no raga è difficilissimo da fare tipo da mezzo sdraiata non ve lo consiglio perché comunque da seduti riesco a farlo scusate per questo video cortissimo e ho scelto questa challenge lo so ho fatto una pazzia perché non avrei dovuto farla però va bene avete scelto grazie a un sondaggio su instagram allora in pratica grazie anche a la venia buon anno ti saluto un grande bacio lo so ho fatto una pazzia e non ve lo consiglio da mezzo sdraiato perché comunque respira e trattenere il respiro da mezzo sdraiato non è il caso vedete che si è abbassata un po la voce sinceramente e niente spero che questo video vi sia piaciuto scusatemi per che non è proprio di non è proprio un video lungo però mi dice c'è tantissimo però domani rimetterò spero che questo video vi sia piaciuto se è così per favore mettete like iscrivete al mio canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati nei miei prossimi video a se viva potete seguirmi su instagram samira strattino vostro blog samira con due a apostro questo e terretino vostro blog scusatemi e se volete essere salutati volevo dirvi volevo dirvi che potete scrivere sotto nei commenti hashtag mi saluti in un prossimo video e poi scrivete anche il vostro nome io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao